Un libro dal titolo emblematico, La buona politica, quasi una contraddizione in termini, con la figura di Niccolò Machiavelli in copertina dall'eloquente espressione, che sembra irridere ai colleghi del terzo millennio, come sembra suggerire il volumetto scritto dall'ex ministro del governo Ciampi, che cura la prefazione, Valdo Spini, oggi indipendente del Partito Democratico, alla cui festa Padovana lo ha presentato discutendone con l'ex vice sindaco di Vicenza, nonché ex portavoce di Pierluigi Bersani, Alessandra Moretti. Sembra un ossimoro, la buona non va proprio d'accordo con la politica. Esatto, la mia intenzione è di costringere un po' a volare più alto, a uscire un po' dal dibattito personalistico, comunque legato alla contingenza di questa o quella posizione di responsabilità o di potere, e andare un po' alle fonti della politica. Ecco perché si parte da Machiavelli, nel senso di andare alle radici di quello che può essere uno buono reggimento degli stati. In altre parole, una politica che si misura davvero con i problemi e che si dimostra capace di risolverli. In più il libro offre anche una biografia, naturalmente mia, almeno alcune impressioni, diciamo, del mio viaggio nella politica, anche per cercare di dire ai giovani qual era quell'impegno così totale, così intenso, che dispiegavamo noi negli anni Sessanta, negli anni Settanta. E poi si arriva naturalmente all'attualità. Io sono convinto che uno degli ingredienti per ridare l'infa ai partiti, alle forze politiche, e scegliere un sistema elettorale coerente e serio, non il solito pacciugo di vari sistemi messi insieme. In ogni caso il Porcellum, così come è stato chiamato, è stato un disastro perché ha tolto quel rapporto diretto eletti e elettori che è la linfa, che è il sangue della democrazia. La buona politica fa rima anche con Partito Democratico, nel senso di un asse importante adesso che corre proprio lungo quella sua Toscana. Senz'altro io sono un po' una vittima di quella che può essere definita, che è stata definita, la fusione a freddo. Il Partito Democratico nasce come fusione a freddo fra gli ex PC, PDS e gli ex DC della Margherita. E fuori rimane l'area socialista e laica. Io sono un esponente di quest'area ed in effetti io sviluppo nel libro una critica nei confronti di questa esclusione, che però mi sembra sia una critica fondata, perché oggi il dibattito fra la vecchia componente PDS e la vecchia componente Margherita è un dibattito piuttosto asfittico, che si sta risolvendo a favore degli esponenti della seconda, ma che può anche scoprire una coperta, che può magari coprire i piedi e lasciare scoperta la testa o viceversa. Quindi sentirei il bisogno di un dibattito che si apra di più e soprattutto che riesca veramente a raggiungere i grandi problemi del momento. La buona politica lei lo consiglierebbe non solo ai compagni di partito, ma anche agli avversari? La buona politica vale per tutti, così come delle buone istituzioni valgono per tutti. Ma soprattutto anche attraverso qualche elemento biografico è uno stimolo per i giovani di non scappare dalla politica, ma di provare anche certamente le delusioni, le amarezze, ma anche le gioie dell'impegno.